buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo con lo sci vedete la felpettina da brr che freddo che fa in effetti sta tornando anche il freddo anche qua purtroppo arriva la primavera arriva il freddo ha fatto un inverno mite tranquillo ha nevicato anche poco qua magari in montagna ha nevicato alla grande eccetera eccetera ma qua ha fatto giusto una spolveratina e basta fortunatamente che purtroppo fa disastri comunque slalom gigante maschile di Courchevel siamo alle finali siamo agli sgoccioli vediamo cos'è successo in questa gara come è accaduto spesso in questa stagione è odermatt a comandare è sempre lui sceso con il pettorale numero uno si è seduto sul trono e c'è rimasto fino alla discesa di tutti i 26 atleti perché erano solo in 26 a queste finali alle sue spalle il norvegese Brotten a 20 centesimi quindi Murisier a mezzo secondo da segnalare il numero uno di Coppa Europa sempre norvegese classe 2000 Brotten è classe 2001 questo è un classe 2000 ottavo dopo la prima manche con 77 centesimi di ritardo pensate che di solito gli sciatori o le sciatrici che vincono la Coppa Europa che magari si cimentano per la prima volta nelle gare dei grandi chiamiamoli così perché la Coppa Europa un po' la coppa giovanile ecco la primavera dello sci dove partecipano appunto i giovani che devono crescere per poi andare in nella giocarsela con i grandi di solito arrivano sempre nelle ultime posizioni con ritardi altissimi questo ragazzo invece 77 centesimi da un certo Marco Odermann prima gara che fa in Coppa del mondo per quanto riguarda gli italiani roba da mettersi le mani nei capelli che non ho perché Dea Liprandini è solo sedicesimo mentre il buon Borsotti come Hauser e Christoffersen non termina nemmeno la prima manche ma andiamo a vedere la classifica allora dei primi dieci che vede Odermann al primo posto Brotten è secondo Murisier è terzo Meijard è quarto Brensteiner è quinto Pinturo è sesto Gino Gino pilotino Gino Caviezel è settimo Stenholz è appunto questo sciatore norvegese ottavo Smid è nono e Fulp è decimo sedicesimo come dicevamo Dea Liprandini andiamo a vedere come è andata la seconda manche il primo a scendere Kilder ultimo ventitresimo dopo la prima manche vediamo che tempo farà e se basterà per andare avanti magari arrivare tra i quindici chi lo sa il suo tempo è 2.11.97 attendiamo gli altri tocca a Farstein ventesimo dopo la prima manche a pari con Zupcic e 45 centesimi di vantaggio sul norvegese alla fine si prende il primo posto con 41 centesimi di vantaggio quindi perde solo 4 centesimi di quello che aveva alla partenza non male non male tocca al nostro Dea Liprandini vantaggio di 26 centesimi sullo sciatore austriaco e 16 centesimi di vantaggio dopo la prima manche no scusate sedicesimo dopo la prima manche 26 centesimi e sedicesimo dopo la prima manche sarebbe importante stare possibilmente davanti magari aumentando un po' il vantaggio per cercare di entrare nei dieci e invece fa una gara anche qui da mettersi le mani nei capelli perché è non ottavo ottavo con un ritardo di quasi due secondi 1.99 quindi sicuramente non andrà a punti si sperava riuscisse a arrivare al terzo posto nella coppa di specialità e invece difficilmente terrà la posizione che ha a 50 punti di differenza da Feller sorvogliamo è meglio sulla gara Dea Liprandini tocca al buon Gino Gino pilotino Caviezze nel settimo dopo la prima manche e un secondo e 0.5 di vantaggio sullo sciatore austriaco che zitto zitto cacchio cacchio entra sicuramente nei dieci male che vada sarà ottavo se pensiamo che era ventesimo ha recuperato un botto di posizioni gara in controllo intanto dello sciatore svizzero del buon Gino pilotino Caviezze ma alla fine è primo con però solo 28 centesimi di vantaggio diciamo che va bene perché male che vada finisce settimo che è tanta roba per lui dopo aver fatto un terzo posto nell'ultima gara se non ero di Super G inaspettatamente un settimo posto anche in gigante non è male però se avesse mantenuto un attimino più qualche centesimino in più magari poteva entrare nei cinque o puntare che ne so un podio inaspettato però vediamo tocca a Brensteiner vantaggio di soli dieci centesimi sullo sciatore svizzero e quinto dopo la prima manche buona gara si prende al primo posto con quattornici centesimi di vantaggio quindi incrementa di quattro centesimi il suo vantaggio è la volta di Mayard quarto dopo la prima manche e dieci centesimi su Brenstein di vantaggio anche per lui una buona gara si prende al primo posto per undici centesimi quindi anche lui incrementa un zichettino ecco Brenstein ha migliorato di quattro centesimini il suo vantaggio Mayard lo incrementa di un centesimino però adesso vediamo perché tocca ai primi tre vediamo se gli basta per andare a podio oppure no è sfida tutta Svizzera Mayard contro Murisier Murisier è terzo dopo la prima manche vantaggio di soli 5 centesimi sul suo compagno di squadra e connazionale purtroppo il buon Murisier non fa una buona manche è solo settimo con un ritardo di ben 80 centesimi ne mancano solo due quelli che probabilmente si giocheranno la prima posizione visto che hanno un attimino più di vantaggio rispetto agli altri parte Brotten Brotten vantaggio di 35 centesimi sullo sciatore svizzero e secondo dopo la prima manche alla fine pur perdendo nella parte finale un botto è primo con 14 centesimi di vantaggio quindi il buon Brotten ennesimo podio classe ripeto 2001 gli norvegesi hanno uno squadrone che sono a posto per fino al 2030 tranquillamente beati loro ma adesso c'è lui è lui o non è lui è lui o non è lui certo che è lui il buon Marco Odermatt vantaggio di 20 centesimi sullo sciatore norvegese e signori miei il buon Odermatt mica si accontenta di finire 20 centesimi di vantaggio 49 centesimi di vantaggio raddoppia il suo vantaggio si prende nettamente il primo posto è stata un'annata tutta Odermatt poi ne parleremo nell'ultimo video finale di riepilogo coppa generale coppe di specialità maschile e femminile in cui vi dirò i primi tre per ogni categoria quindi coppa generale i primi migliori tre sciatori quelli che hanno fatto più punti in tutte le discipline i vincitori delle varie singole coppe quindi slalom gigante slalom speciale discesa libera e super g credo che siano solo queste non penso che non c'è più la combinata e non penso ci sia la coppa di parallelo perché ne hanno fatti due forse due o tre al massimo quindi però se ci fosse vi dirò anche quella detto questo ragasoli mi stop un attimo poi vi dico la classificona finale perché sono un po' cattivello bene 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 ho qui la classificona finale di questa finale ultima gara di slalom gigante maschile per la stagione 2021-2022 di sci alpino alla fine vittoria di Odermatt davanti a Brothen terzo Meillard quarto Brensteiner quinto il buon Gino Gino pilotino Caviezel sesto Pinturot settimo Forstein ottavo Megra nono Murisier decimo Stan Olsen da notare dodicesimo il buon Kilde che era ventitreesimo quindi recupera la bellezza di undici posizioni da notare un Firstein settimo che ne recupera tredici che era ventesimo e poi da notare che c'è un Stan Olsen decimo classe 2000 un Megra classe 2001 credo che sia stessa età di Brothen ottavo e Brothen secondo classe 2001 per la Norvegia senza contare Christofferson che ahimè è caduto però signori miei Christofferson è tanta roba Kilde questi sono a posto per anni anni poi vabbè la Svizzera c'è Odermann c'è Meillard c'è Murisien Svizzera Austria Norvegia ma dove vogliamo andare noi abbiamo il buon il buon il buon Lucchino di Aliprandini che si può consolare solo che è finita la stagione anzi è quasi finita perché c'è ancora lo slalom e praticamente c'è la Michelle Giesin che lo consola ecco perché se no veramente beato lui che c'è la Giesin comunque andiamo a vedere la solita comparazione tra prima e seconda Manche nella prima Manche al decimo posto c'era Fulp che è fuori dai dieci al nonno posto c'era Smith che è fuori dai dieci all'ottavo posto c'era Stan Olsen che perde due posizioni e termina al decimo posto al settimo posto c'era il buon Gino Kaviezan che recupera due posizioni e termina quinto al sesto posto c'era Pinturot che resta sesto mantiene la stessa posizione al quinto posto c'era Brensteiner che invece ne recupera una e termina al quarto posto al quarto posto c'era Meillard che recupera una posizione e termina terzo al terzo c'era Mourisier che ahimè perde ben sei posizioni e termina al nonno posto e poi i primi due sono rimasti invariati quindi Brotten è rimasto secondo e Oderment è rimasto primo quindi è stata praticamente una gara in cui i due su tre atleti hanno mantenuto le stesse posizioni e il quarto è passato terzo quindi abbastanza non è non ci sono state grosse stravolgimenti tranne che dal quinto al decimo posto in cui qualche cambiamento c'è stato ma nelle prime posizioni a regola sono stati abbastanza alla pari ecco per intenderci rispetto ad altre gare direi che la prima mancia e la seconda hanno seguito il dettame che c'era precedentemente bene ragazzoli io vi saluto vi ringrazio adesso farò anche quello femminile non so se non so se hanno fatto lo slalom speciale femminile lo stesso giorno quindi hanno invertito hanno fatto slalom gigante maschile slalom speciale femminile e il giorno dopo slalom gigante femminile slalom speciale maschile o se hanno fatto i due giganti lo stesso giorno maschile e femminile e il giorno dopo i due slalom adesso lo vedrò perché sapete mi piace vedere le cose volta per volta non fare le corse quindi adesso vedremo sicuramente vi farò una gara delle pulzelle che si è disputata proprio lo stesso giorno il sabato di metà marzo quando si è disputata anche questa gara che vi ho appena raccontato detto questo chiedo venia vi sono dilungato troppo ci vediamo alla prossima ciao